Non c'è pericolo, noi suoniamo il claccio un tre volte, capito? E allora? Tu butti il confetto per creare il panico. Sì. Noi contiamo fino a venti e poi... E poi ce ne andiamo, tagliamo la corda, tutto ok? Tutto ok. Allora io, pratica... Dunque, faccio il claccio fino a trenta. Fami dal confetto, metto il cito alla pistola e poi... E poi speriamo. La roba! Ecco, allora dopo... Insomma, io vado e... E dopo... Capo, ce l'hai l'arma? Sì! Oh! 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 Questa è un'arma. Questa è un'arma. Dove va? Vuol fare il furbo lei? Io non faccio. Vada in coda. Ma vada a fare l'arma. No, guardate. No, non avete capito. Non l'avete capito? Questa è un'arma. Scusi, permesso. Fa passare. Permesso? Abbia pazienza. Niente. Ma dov'è? Dovrebbe essere. Dov'è? Sto cercando, scusi. Ah, eccola qua. Ecco, la metto in cinta. Ecco. E si comincia. Trentamila. Come trentamila? La sua cambiale. Ma qua? Ma quale cambiale? La sua, paga trentamila, signore. Ma non è mia la cambiale. Questa è la cambiale... E di questo, signore. E dica qualcosa che sua la cambiale sia umana, scusi. Allora? Ma come, allora? Io, io non... Guardi che ce l'ho incinta io, eh. Ognuno ha i propri guai, signore. No, guardi che io sono venuto qua. Che succede? Non vuol pagare? No, perché io sono venuto qua per... Per pagare una cambiale. E allora la paghi e via, se ne vada. E vabbè. Ho solo... Ho solo 50.000 lire. Beh, che vuol dire? Le diamo il resto. E vabbè. Allora, mi dia. Va bene. Sì, ma no, ma la cosa è che... Ero venuto qui per... No, 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 sento, non mi faccia perdere tempo. Guardi, signora... Uscere, per cortesia. Accompagni fuori questo, signore. No, guardi che le giuro... Faccia presto. Ma come? Ma guardi che lei mi aveva... Lei la deve smettere di incorturare. Vada via, su, via. Ma io non ne posso più. Allora, anzi, qui non ha capito nessuno che questa è una ra... Oddio, cosa? Si sente male? Presto. Questa è una... Una banca. No, questa è una ra... Una radio? Una rana. Una raucedine. Una racchetta. Una ratifica. Una radiografia. Una ramazza. Un cavallo. Un cavallo, ma che cavolo dici? Una radice. Una raccolta. Una razione. Razatura. Una rapa. Una rapola. Eh. Una rapetta. Una rapuccia. Una rapina. Una rapina. Brava, la signora ha indovinato. Ma poteva dirlo subito, no? Ecco, signori, è una rapina. Allora tutti con le braccia alzate. Presto. Ma lei no, scusi, cosa c'entra lei? Oh, c'è vero. Avanti, preparate il denaro, svelti. Scusate. Ma mi dica, lei la valigia da rapina ce l'ha? Eh, io... No. Una valigia da rapina al signore. Che pezzatura vuole? Quello che vuole lei. Anche valuta straniera? Sì, sì. Va bene, avanti. Va bene così? Le basta? Eh, ma anche troppo. Bene, chiudele. Scusi, devo seminare il panico. Una bomba. No, non, non. Nassi, tiate. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ma non c'è nessuno? Sono andati via. Tutti sono andati. Buongiorno. Beh, ho visto la situazione, allora io prenderei un taxi e dopo ci sentiamo. A vederci. Grazie.